Buongiorno, mi fa una spremuta d'arancia e un panino, mozzarella e pomodoro, grazie. Buongiorno, mi fa una spremuta d'arancia e un panino, mozzarella e pomodoro, grazie. Buongiorno, mi fa una spremuta d'arancia e un panino, mozzarella e pomodoro, grazie. Buongiorno, mi fa una spremuta d'arancia e un panino, mozzarella e pomodoro, grazie. Buongiorno, mi fa una spremuta d'arancia e un panino, grazie. Non guardi mai la televisione? Mai, sono trent'anni che non la guardo più, però... Sai cosa dice Hans Magnus Enzensberger? Sono d'accordo con lui.